Domenica Bonarizzo, 4 ottobre, l'unica squadra che ha racconto i frutti è quella della Festa Ecco, hanno vinto la partita Ok, la caccia al tesoro Mentre più vedete il Varte e il sindaco Daniano che stanno conducendo la gara Qui siamo al campo sportivo di Laxolo, ex sede della Laxolo Festival Lui è in programma, prima era cadere foglie, adesso c'è una nuova ambientazione Andremo a vedere poi la gara di cultura, in cui ci fermiamo, ci incontriamo dentro In tanto, godiamoci il panorama, ricordandoci i tempi che ci avevano risolto Il dottor Nuccio Capelli, eccolo lì di nuovo in prima fila Cioè, l'abitue di uscire di me Ok, ok Quindi la seconda partita della caccia al tesoro partirà stasera alle 5 da qui Mentre abbiamo il gioco bimbi che ha dato questi punteggi Lasciamo parlare Nostra maestà Mentre la Roma è 3 a 0 a Palermo 0 a 0, Sampdoria Inter Mi vedo questi tiri con l'arco C'è giù in sua maestà Cristian Pellegrini a dirigere Sbagliato Che ricordi quando c'era la solo feste qui E ora non c'è più niente Bel divertente questo tiro con l'arco Quanti arcieri che abbiamo Sembrano tanti indiani Bello il maioncino a riga del Cristian Se lo seguiamo Grazie Grazie mille Allora Che è un bambino venuto ma non fa niente Non è il giro Si fa chiederebbe il massimo che potevo fare con le mie capacità Allora Ci sono ancora alcune macchine da spostare Che è un bambino E' un bambino E' un bambino C'è un bambino Ma comunque vedi? No Tocca a voi Ragazzi siete avvantaggiatissimi Cosa volete? C'è un bambino Non c'è 26 orizzontale Quella di prima La contrada con la dove? Vero il 26 orizzontale? L'axolo E' solo 1,2,3,4,5,6,6 Avanti Quattro di prima voi ragazzi? Andate dietro per favore Grazie 14 verticali Si arrampicano le lucertole Palesia Palesia Io ho molte cose 1,2,3,4,5,6 Adesso sono i Mela Day che giocano E questo volete giocare con quale? Ragazzi 13 verticali C'è Va nell'angolo Qui dove sono io 13 verticali Uno strumento della banda La pistola Il fucile La banda Ah no Uno strumento della banda Trova Trova Va bene trova Uno, due, tre, quattro, cinque e sei anche per gli ultimi Perfetto Ok adesso ripartiamo Grazie 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 Grazie